Il dramma della disoccupazione tra scioperi, vertenze e posti di lavoro costantemente a rischio e rimediabilmente perduti, poi il conseguente vertiginoso aumento dei livelli di povertà e ancora l'escalation di episodi di microcriminalità, dagli scippe ai furti, in campagna e perfino quelli delle olive ancora sull'albero, passando per le rapine messe a segno in qualche caso in pieno giorno, addirittura in pieno centro abitato. Sono stati questi i fatti che hanno caratterizzato tutto il 2014 che si è presto ad andare in archivio, fatti che in un modo o nell'altro sono testimoni della crisi infinita che un territorio già depresso di suo è costretto a trascinarsi stancamente. Territorio più povero come dimostra la festa forse eccessiva per l'avvio dei cantieri di servizio durata appena tre mesi, ma come dimostra anche la difficoltà della stessa mensa della solidarietà a corto di contributi e come dimostra infine la corsa e buoni speso al banco alimentare. Territorio in crisi come dimostra infine anche la guerra tra poveri nell'ambito della vicenda dell'alloggio popolare conteso tra Gina Cucchiara e Ignazio Soldano. La cronaca nel 2014 ha consegnato alla storia anche altre vicende. Il traffico di droga purtroppo ha dimostrato ancora una volta di essere una piaga difficile da sconfiggere. Diversi gli episodi di corrieri di stupefacenti scoperti alla discesa del pullman proveniente da Palermo. L'operazione veleno condotta dalla procura della Repubblica di Sciacca ha inferto un durissimo colpo al sistema anche se c'è ancora la consapevolezza che la droga da queste parti continua a girare. A marzo un diciassettenne di Montevago Alex Sparacino muore in un accidente stradale mentre viaggia a bordo del suo scooter un episodio che desta profonda commozione come quello in tutta la provincia per la morte dei due fratellini travolti da un vulcanello di fango alle macalube di Aragona. In uno scontro tra Tornado muore Giuseppe Palminteri capitano navigatore dell'aeronautica militare originario di Sciacca la sua salma è stata tumulata nel cimitero Saccenze. Un operaio del comune di Sciacca ha cursio amato a coltella alla moglie al culmine di un litigio mentre un trentenne di Villa Franca Sicola finisce in carcere con l'accuso di aver danneggiato e incendiato alcuni appartamenti estivi nella zona di San Giorgio. A Burgio il responsabile della locale caserma dei Carabinieri viene arrestato dai suoi stessi colleghi con l'accusa di aver falsificato il registro delle presenze giornaliere. Sono continuati gli sbarchi di immigrati così come sono proseguiti gli attacchi dello Stato al patrimonio di Matteo Messina Denaro, super boss tuttora latitante. Pesante condanna a sette anni e mezzo infritta dal tribunale Gianfranco Termine che nel gennaio di due anni fa aveva coltellato la fidanzata alla quale aveva dato appuntamento dentro il cimitero di Ribera. Si è ripetuta l'emergenza degli incendi colpite ancora una volta le zone di San Caloggio e del Bosco del Magaggiaro a Menfi. Scoppia il caso dei presunti abusi sull'utilizzo della legge 104. I docenti pendolari si costituiscono in comitato ma la procura della Repubblica di Agrigento intanto interviene per disporre una raffica di misure cautelari. Alle porte di Sciacca un riberese Alessandro Tavormina spara dalla sua vettura all'auto guidata dalle ex moglie. Il 2014 è stato un anno difficile anche per tanti settori della vita pubblica e produttiva. Gli impianti termali che gestiscono la risorsa più importante di Sciacca e forse della Sicilia tutta hanno arrancato facendo quello che hanno potuto il tutto in attesa di un nuovo bando pubblico per la selezione di un partner privato dopo il fallimento di quello precedente non ancora pubblicato. Ad annunciare la propria disponibilità a gestire il patrimonio è stato Antonio Mangia presidente di Aeroviaggi. A fine anno è il punto più basso della crisi delle terme. Lavoratori senza stipendi è stato di agitazione per ottenere il ripienamento dei debiti che oggi ammontano circa 2 milioni di euro e che hanno visto addirittura l'Enel staccare la corrente elettrica per morosità. E passiamo alla questione acqua. Contro la gestione privata delle risorse idriche pubbliche è nato un comitato intercomunale. A presiderlo il sindacalista Franco Zomuto. Il rapporto tra Girgenti Acqua e gli utenti è apparso sempre più complesso non solo di servizi lamentati ma anche le tariffe applicate, quelle retorative sono state dichiarate peraltro illegittime, ma anche la questione dei distacchi hanno creato più di qualche patema. Un pensionato di Lucca Sicola è morto di infarto mentre gli operai gli chiudevano il contatore idrico. Come contrapasso a Ravanusa due tecnici di Girgenti Acqua sono stati aggrediti a Sciacca l'estate. È stata durissima. I soliti problemi di distribuzione idrica soprattutto sotto Ferragosto hanno caratterizzato i mesi più caldi a peggiorare la situazione. La manomissione dei trasformatori elettrici dei pozzi Carboi e più recentemente il furto dei cavi di rame che ha messo fuori uso i pozzi di Grattavoli. Il Comune ha chiesto una vigilanza degli impianti per evitare ulteriori episodi simili e quest'estate è scoppiato anche il problema inquinamento. Nel primo anno di gestione del depuratore da parte di Girgenti Acque sversamenti di acqua nera prima allo stazzone, poi su torrenti Foce di Mezzo e Cansalamone, proteste durissime dei residenti soprattutto di quelle della Contrada Foggia visto che è stato questo lo specchio d'acqua dove si sono riversati gli sversamenti. Dopo tanto tribolare il Comune comunque ha ottenuto il riconoscimento del credito vantato nei confronti dell'EAS in liquidazione. La sanità è sicuramente uno dei settori le cui vicissitudini durante il 2014 hanno preoccupato notevolmente la collettività. Un ospedale è quello di Sciacca sempre il centro di mille dubbi sul futuro con servizi costantemente a rischio, simbolico il funzionamento della sala operatoria più volte sospeso e con una quantità limitatissima di personale a disposizione con una miriade di contratti a tempo determinato che scadranno tra meno di un mese in attesa di una rete ospedaliera più volte annunciata ma non ancora entrata in funzione col pericolo che alla fine il progetto degli ospedali riuniti con Ribera possa finire nel dimenticatoio. Ma l'ospedale non chiuderà, continua a ripetere il direttore generale Ficarra, risposta che dovrebbe tranquillizzare tutti eppure non riesce a farlo. Chissà perché. Tanto poco tranquillizzanti queste parole che è stato lo stesso Consiglio Comunale a promuovere una raccolta di firme per salvare l'ospedale Giovanni Palo II, struttura ospedaliera finita anche al centro del sequestro del depuratore. Tra le vertenze di lavoro da segnalare anche quella dei lavoratori della mensa ospedaliera ancora senza stipendio dopo mesi di attesa. Il 2014 è stato l'anno della transizione dal lato alla società di regolamentazione dei rifiuti. Polemiche a non finire per la scelta della maggioranza dei sindaci di puntare ancora una volta su Vincenzo Marinello come presidente. Altri sindaci si sono posti sulla base di direttive regionali non del tutto chiare per la verità che sembravano pretendere alla nomina di soggetti che non fossero esterni alla pubblica amministrazione. Ne è venuto fuori un discusso in carico a Marinello da parte dell'Unione dei Comuni della Quisquina capeggiati da Giovanni Panepinto ma alla fine le polemiche non hanno generato alcunché e Marinello irregolarmente all'opera. Problemi nel frattempo ci sono stati per i lavoratori soggei e risociutano oggi liquidazione che ha visto avvicendarsi ben tre commissari. Lavoratori che non ricevendo gli stipendi con la giusta puntualità sono stati costretti periodicamente a proclamare sciopere o comunque stati di agitazione. Nei giorni scorsi l'avvertenza della SAM, sistema ambientale a cui si conferiscono i rifiuti differenziati, da quasi un anno non riceveva un accredito, ha ricevuto appena 20.000 euro con l'impegno a gennaio di procedere a un piano di rientro. Più recentemente è scoppiato un altro bubone, quello della discarica di Siculiana improvvisamente chiusa e riaprirà però a gennaio. La regione ha imposto l'SRR di accogliere presso la discarica di sciacca rifiuti di quattro comuni per un totale di 600.000 chili in più in un mese. In questa fase si è ottenuto quantomeno l'impegno ad autorizzare lavori per l'ampliamento di Saraceno Salinella. C'è stata tensione ai primi di novembre per un'allerta meteo che ha mandato in crisi un'intera città obbligando il sindaco ad un'ordinanza per la chiusura delle scuole. Sono iniziati nel 2014 lavori sul viadotto Belice ma soprattutto sul ponte Carabollace chiuso con senso unico alternato per il rifacimento delle barriere laterali in una vicenda che come si ricorderà visto i vertici ANAS rinviate a giudizio per la morte di Alessio Spitaleri e di quella di prima ancora di Maria Presti. Il 2015 dovrebbe essere l'anno in cui i lavori per il rifacimento del ponte Verdura finalmente potranno iniziare. Si è tentato in vano di ottenere risorse finanziarie utili e di intervenire sul ponte Cansalamone rimasto chiuso per tutto il 2014. A Ribera si è concluso l'iter per ottenere finanziamenti per il rifacimento degli alloggi popolari di Largo Martire di Viafani. Si attende l'arrivo delle ruspe ma i tempi non sembrano celeri. E' proseguita la battaglia contro le prospezioni petrolifere nel mare di Sicilia in una fase in cui però il governo centrale col decreto sblocca Italia ma anche il presidente della regione Rosario Crocetta hanno detto che i cercatori di petrolio dovranno arrivare regolarmente anche qui. Si è detto addio al project financing per il completamento e la gestione delle piscine comunali di Contrada Perriera piscine comunali per le quali il comune di Sciacca intende investire ancora 300 mila euro per il rifacimento dell'area esterna. Politicamente l'anno è stato tra i più complicati per il sindaco di Sciacca Fabrizio Di Paola dalle dimissioni da vice sindaco di Enzo Porrello all'approdo della componente ex cantiere popolare nel Partito Democratico. David Emmi dell'NCD è stato nominato assessore al culmine di una verifica politica che per l'opposizione è stata una farsa. Litigia anche dentro la stessa maggioranza con Forza Italia che si è spaccata per impedire a Mario Turturici di essere nominato assessore e con Salvatore Monteleone eletto con Sciacca al centro che ha lasciato il raggruppamento del sindaco. Si è confermata l'emergenza randaggismo che costringe un comune già in difficoltà finanziaria come quello di Sciacca a destinare ben 400 mila euro del suo poverissimo bilancio a questo fenomeno. Hanno difficile anche sul fronte tributario con l'introduzione di tasi e tari nuove tasse imposte dal governo centrale agli enti locali. Varati gli sgravi fiscali della zona franco-urbano in comuni come Sciacca a Castelvetrano. Sul fronte dello sviluppo turistico si attende ancora che Roccoforte inizi i lavori per costruire le villette mentre è tuttora in corso la vendita attraverso la procedura esecutiva del patrimonio immobiliare di Torre Macauda. Ci sono stati problemi per il distaccamento dei vigili del fuoco di Sciacca i quali hanno temuto il declassamento salvo poi ottenere il riconoscimento del governo che ha assegnato quattro unità lavorative in più. Dieci anni dopo il precedente referendum la regione ha autorizzato nuovamente il quesito per il cambiamento del nome da Sciacca a Sciacca Terme ma di recente si è appreso che non se ne potrà fare nulla per mancanza di fondi necessari. Lunga vertenza nel 2014 tra Comune ed Enel per il riposizionamento della cabina Enel di Palazzo Azzara. Ci è voluto un decreto del Tribunale però per obbligare la società elettrica a trovare una soluzione ancora da mettere in pratica ossia la costruzione interrata dentro a villetta di piazzetta Lazzarini di un nuovo dispositivo. La soprintendenza ha licenziato il piano pesaggistico ma ne è venuta fuori una polemica perché questo piano ha stravolto i programmi di sviluppo dei singoli comuni a sospendere gli effetti dello strumento urbanistico il TAR raccogliendo i ricorsi dei sindaci di Menfi e Ribera. Si è tentato ad istituire liberi consorsi tra Comuni in sostituzione delle province, progetto però fallimentare per colpa degli innumerevoli lacci e lacciuoli che la regione ha imposto su questa iniziativa. Tra le battaglie condotte dalla città anche quella per evitare la chiusura dell'agenzia di riscossione anche se la sede di via turati è stata soppressa, oggi l'ufficio è dentro l'URP del Comune ma con un ridimensionamento estremo del personale. Tra gli spettacoli estivi particolare successo ha avuto il concerto di Renzo Arbore, polemiche invece per Azzurro Fest, evento pubblico privato che ha previsto anche la privatizzazione per una sera della stessa piazza scandaleato chiusa ai non paganti di un concerto del Sud Sound System. Non è andato bene, il primo carnevale privatizzato, la è andata in perdita, determinante la pioggia che ha caratterizzato gran parte della manifestazione ma sono venuti fuori anche numerosi problemi organizzativi. A settembre Ribera festeggia Miss Italia e Clarissa Marchese che riscatta la delusione dell'anno prima per il secondo posto di un'altra riberese, Fabiola Speziale. Infine vi segnaliamo il meeting di Google da Roccoforte alla presenza di uomini d'affare e VIP dello spettacolo, tra di loro anche giovanotti, polemiche a non finire per la mancata presenza di questi protagonisti e Sciacca che alla città termale hanno preferito Castelvetrano e Caltabellotta.